E per tutti ragazzi sono Gilbert e inizio il video con dirvi una cosa ragazzuoli se e dico se questo video raggiunge i 100 e dico 100 likes io ve lo dico qua scrivo a Velox e gli propongo di fare un one verso one sul mio canale su Black Ops 3 Allora di cosa tratta il video di oggi? Oggi vi porto semplicemente un TCT che ho fatto per puro caso contro Velox infatti non stavo registrando però appena visto che in lobby c'era Velox ho detto cazzo devo registrare come subito registrare la facecam Premetto che ero agitatissimo perché era la prima volta che beccavo Velox contro e io lo seguo dai tempi degli Inside Code in cui ero insieme a Kree e quindi veramente tantissimi anni sarà 5 o 6 anni che lo seguo e quindi è stato un evento un po' speciale quindi ho voluto registrarlo Ero agitatissimo tra l'altro io gioco col VMP e lui giocava col Banshee quindi ero pure favorito io però regà ero troppo agitato e non sono riuscito a vincere comunque lo vedete dalle espressioni che faccio Premetto che è stato agitato tutta la partita perché ero agitato e volevo giocarmela bene e in realtà l'ho giocato di merda Comunque premetto che sì io gioco con voi stasera quindi dovrei essere ulteriormente avvantaggiato però ho una cosa a mio favore nel senso io ho sempre dico sempre giocato su tutti i Call of Duty con il cecchino Sono sempre stato uno sniper guardate vedere i vecchissimi video di Black Ops 3 di due anni fa ero uno sniper facevo un clip con lo sniper Ora da 1-2 settimane mi sono messo a giocare con le armi e non sono maluccio effettivamente però non sono ancora a dei buoni livelli voglio migliorarmi Noi regà non vi rubo altro tempo vi lascio la partita spero che vi piaccia sto in silenzio tutta la partita quindi non vi aspettate che io parli Forse faccio qualche espressione strana un po' ogni tanto però nella maggior parte delle volte sto in silenzio quindi spero vi godiate il video cercherò di tagliare le parti in cui muoio troppo Perché all'inizio premetto che sono entrato nella partita che lui era 3-0 poi ho recuperato un po' e poi invece niente mi ha distrutto E noi regà direi che possiamo partire con il video Attenzione 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 libera terra Guardi nemico Attenzione, approvvigionamento nemico in volo Uccisione Ora è morta Uccisione confermata Demolitrice eliminata Unità da sotto eliminata Servis Servis Ora è morto. Peccato, raga!